Il lavoro che il ponte penso se non merita, perché è da 1270 che è lì. Ci siamo dopo anni di attesa, Ponte Buriano, il ponte che fa da sfondo al celebre dipinto della gioconda di Leonardo da Vinci, sarà restaurato. Con i fondi in tutto 700 mila euro messi a disposizione dalla regione toscana e la progettazione a carico della provincia di Arezzo, il cantiere parti da lunedì 4 settembre. Si tratterà di un primo risanamento conservativo che interverrà sui cosiddetti rostri, i cunei che stanno alla base del ponte romanico realizzato attorno alla metà del XIII secolo. Il cantiere si svolgerà in alveo, il fiume Arno è infatti pressoché asciutto, ma sarà comunque necessario chiudere il ponte al traffico fino alla conclusione dei lavori prevista per fine ottobre. L'interdizione al traffico riguarderà anche la porzione della Sette Ponti che porta al ponte stesso. Indubbiamente l'intervento creerà qualche disagio, ma è un sacrificio speso a buon fine, visto che porterà all'antico splendore un'opera di grande importanza come quella di Ponte Buriano, non solo da un punto di vista architettonico e paesaggistico, ma anche strategico per il traffico stesso. Un'opera che appunto tutt'oggi è a distanza di secoli dalla sua costruzione, sopporta un traffico ben più pesante di quello previsto nel 1200. La fine viene giù perché è abituato nel 1200, è abituato a passare i muli con i carri, ci passa a correre, camion. Il ponte aveva già dato segni di cedimento, le spallette erano state infatti transennate. Quella che sta per prendere il via è la prima fase dei lavori che riprenderanno poi per la fase finale nel periodo compreso tra maggio e settembre 2018.